Benvenuto al dottor Renzo Rossi, al podologo, al dottor Emanuele Di Finti, benvenuto, benvenuto. Allora, diamoci la mano, io ringrazio anche la paziente in questo caso che è Marileina. Allora, oggi lo vedete, vi abbiamo portato, grazie appunto ai nostri ospiti, questo macchinario di ultimissima generazione in grado di capire com'è la nostra postura, in grado di far vedere come camminiamo e in base ai risultati che poi vedremo in diretta, capiamo se abbiamo bisogno di plantare e dire addio al nostro mal di piedi. Allora, iniziamo subito a capire di che cosa si tratta, che cos'è questo macchinario? Questo è un treadmill barro podometrico che ci permette uno strumento fondamentale per quanto riguarda lo studio dell'appoggio del piede sia per quanto riguarda una parte funzionale che anatomica. È un semplice tapirulan e grazie a una matrice di sensori posizionati sotto il tappeto possiamo valutare e capire come andiamo a distribuire il nostro peso corporeo a livello delle superfici plantari in base anche a delle fasi che il macchinario ci dà la possibilità, quindi una statica, una dinamica ed enfatizza anche il gesto di qualsiasi atleta, quindi un gesto sportivo. È coaudiuato da, oggi abbiamo una telecamera che è una telecamera, che ci permette appunto di vedere nel dettaglio sia la posizione del piede ma anche quella globale del nostro... Allora, iniziamo subito a capire come funziona. Iniziamo a... Dalla statica, quella che abbiamo detto. Quindi facciamo, rileviamo un attimo la statica. Queste sono le immagini? Queste sono le immagini, quindi la statica ci permette appunto, come abbiamo detto in precedenza, di vedere come distribuisce il suo peso corporeo a livello delle superfici plantari. Possiamo vedere che la paziente manifesta, noi abbiamo una scala cromatica dove il rosso è il punto di maggior carico, la paziente manifesta un ipercarico sull'avampiede, quindi nella zona avampodalia. Sull'avampiede destro, perché sul sinistro non c'è questo. Esattamente, sicuramente ha delle problematiche nella sua quotidianità, forse porterà attacchi, problemi di postura o mal di schiena o delle lombalgie che poi noi andremo ad indagare facendo delle domande giustamente al paziente. Questa è quella statica? Questa è la statica. Poi abbiamo la successiva, che è un esame dinamico, che ci permette di valutare appunto ogni singolo passo. Dinamico che deve fare? Dinamico che deve deambulare, la paziente cammina, deambula, quindi aspettiamo che avviamo un attimo il computer, in modo tale da dare la possibilità al paziente di iniziare la camminata, che avrà una durata... E' la camminata normale, quotidiana che fanno le persone? Sì, diciamo che noi facciamo deambulare un paio di minuti il paziente in modo tale di adattarlo appunto alla camminata che sia più veritiera possibile ai fini di una diagnosi che si avvicina alla normalità. Ecco, la paziente... Quanto deve durare questa camminata? La camminata durerà un paio di minuti, appunto tale da poter permettere al paziente di abituarsi e di camminare come se camminasse nella sua vita normale e di avere una rilevazione corretta e ben precisa. In quali casi è utile fare un esame del genere? Come prevenzione oppure quando una persona lamenta di dolori i piedi? Questo è un esame che possono utilizzare tutti, sia se ci sono delle patologie podaliche, quindi un piede cavo, un piede supinato, un valgismo, dell'alluce, una metadarsalgia. Può essere utilizzato per i pazienti diabetici, molto importante per valutare appunto l'ipercarico e evitandoli quindi. Può essere utilizzato anche per chi ha un semplice mal di schiena, una lombalgia per capire appunto da che cosa proviene e anche per chi ha problemi vascolari. Giustamente, essendo un runner che ci permette la variazione delle velocità, è molto utilizzato anche in ambito sportivo, visto che oramai il runner è una moda, quindi ce ne sono tantissimi, e viene utilizzato appunto per evitare contratture o degli infortuni che poi non permettono la vita sportiva. Come sta camminando la nostra marivina? Che cosa ci dice? Allora, insomma, questo è un esame che è correlato diciamo alla statica effettuata in precedenza, quindi abbiamo anche sotto questo punto di vista, non è sempre così, però in questo caso la paziente ipercarica la zona che anche nella statica andava ad avere la maggior pressione. Infatti vediamo sempre il piede destro. Esatto, quindi il piede destro è quello insomma indagato dove c'è questa difficoltà, sicuramente avrà delle algie, non so se sono delle algie acute o costanti nel tempo. Cioè dei dolori. Esatto, poi purtroppo il dolore, che cosa fa il dolore? Il dolore non solo è presente ad oggi in quel piede ma porterà anche successivamente a un'instabilità perché il paziente stesso andrà ad assumere una posizione antalgica evitando quindi l'ipercarico nel piede dolorante. Allora, dopo aver capito esattamente di che cosa abbiamo bisogno, ci sono anche in base a tutte le analisi che farete, ci sono dei plantari. Ci sono dei plantari, ovviamente questo, scusi se mi permetto di ritornare un attimo indietro, è un esame che va effettuato sia con che senza calzatura perché ovviamente la calzatura va ad interferire su quello che è un atteggiamento. La calzatura abituale? Sì, non con i tacchi, i tacchi assolutamente no, con una calzatura diciamo comoda. Dopo aver fatto la rilevazione e quindi aver una diagnosi scrupolosa andiamo a vedere il presidio medico della paziente, quello più idoneo in base agli ipercarichi che abbiamo rilevato. E i plantari sono personalizzati? Perché devono essere personalizzati? Allora, i plantari sono personalizzati perché parliamo di un presidio medico. Come tutti i presidi medici io non posso indossare un plantare di un'altra persona perché ognuno di noi ha una patologia, ha un peso corporeo, ha un'età diversa, anche per la scelta stessa dei materiali. Il pH della pelle è diverso, quindi va fatto un'accurata scelta anche dei materiali per la sudorazione, ma anche per lo stile di vita che uno ha, perché se uno sportivo viene effettuato una tipologia di plantare, se è una persona che ha uno stile di vita normale utilizziamo determinati materiali, quindi il presidio medico è diverso. E a chi è indicato il plantare? Il plantare è indicato per chi ha problemi, ovviamente ha dolori, ipercarichi, un piede cavo, un piede piatto, ma anche per chi... Per esempio la nostra marilena che abbiamo visto che ha un problema, la piede è in destro. La nostra marilena deve essere presa un'impronta che può essere fatta sia con una nuova tecnologia che abbiamo qui portato, uno scanner, quindi va fatta una rivelazione in 3D del plantare, va lavorato in base ai dati, oppure una vecchia impronta, una schiuma fenolica, il solito calco in gesso e va messo uno scarico giustamente dell'avampiede per evitare appunto l'ipercarico nella zona ben precisa dove abbiamo visto che ha l'ipercarico. Il problema è che si adattano a tutti i tipi di scarpa, cioè per esempio noi donne, se a marilena che è bella, giovane, andiamo con... anche perché le scarpe come sono? Le scarpe devono essere sicuramente comode, sia se uno indossa un plantare, sia se non lo indossa, perché se indossa il plantare la scarpa deve essere in grado di ospitare l'ortesi, perché comunque un po' di spazio lo occupa all'interno della calzatura, ma deve essere comoda per garantire comunque una morbidezza nella fase, quindi una qualità di pellame ottimo per garantire una deambulazione corretta, deve avere una superficie in grado appunto di dar la possibilità ad un'escursione articolare e poi nella donna non è detto che debba comunque sacrificarsi così tanto. Quindi un tacco di 3-4 cm fisiologico è normale, poi una volta che il piede è riposato quindi non ha dolore, abbiamo tutte le possibilità... Assolutamente sì, poi se una vuole mettere un tacco la tera, assolutamente non c'è problema. Un'ora in trasmissione si può. Grazie, grazie a dottor Renzo Rossi, grazie a Emanuele Dipinti, grazie dottore, grazie a nostra... stai facendo ginnastica Maria Elena, a te grazie davvero.